bella lo zio siamo michael jackson così allora non ho capito dove cazzo siamo andiamo? baronna già facciamo questa roba se cosa cosi sa mi ce ne puoi muovere di me ma no cazzo siamo siamo in un ospedale come cazzo per usare ascensore sii cazzo ma se se ma se è una rapina scusa io mi prendo la munizione di questo se raggiungi l'ultimo piano ah questo non è il posto dove michael viene rapito nella storia credo boh motherfuckers motherfuckers medicinali che sono troppo dovete muovere ah c'è con indizio che ti aiuta a trovare l'arbat eh si l'arbat ha presso le chiavi grande zio c'è vabbè ma se non c'è la bomba no perchè stai compagno di sotto quindi c'è e quindi c'è schiatta bridge raggiungi l'ultimo piano ma l'ultimo piano di sopra? si ah cerco un indizio io ho trovato il mio indizio un caffè macchiato grazie mo il caffè delle macchinette io penso sempre spesso che sono migliori cioè che sono migliori di quelli du bar se così mi stavo antipato la becchino da mamma la becchino da mamma tu sei ci sono sempre tre in sessione sei gente fammi non grazie possiamo andare giù? quando quanto parlo questo oh frate t'ha posto? oh è solo caduto ho fatto così devi crepare sono tutti morti? chiedi per un amico eh ma è un'amica che cazzo cioè tu mi metti una cristiana che spara allora io seguo lui non so dove devo andare ah beh ancora più giù frate apri la porta la posso ed è uno due tre la sappiamo tutti dai quattro cinque sei boh prova aspetta che la squadra raggiunga aspetta che la squadra squadra ci siamo bello eh sei giustamente I have a fuck non ti capisco un cazzo eh ah questi sono i rapinatori della scorsa episodio porca madonna che cazzo è successo? qualcuno si sluca andrà 2.400 dollari per non aver fatto un cazzo spettacolo si fa riavvio rapido che si può fare? devi morire eh tu si canal tu si nu canal dot me ma perché? l'abarth ma ci cazzo è l'abarth io lancio la bomba non ti mettere là porco dio prosi te no esplosivo ok ok john do cazzo stono sei si nu canal vero io c'ho pure questa grazie frate dici si levati dal cazzo no esplosivo ahahah 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 ma che cazzo ne vedi che cazzo ne vedi che cazzo ne vedi il porco di t ma questo l'hanno troccato a fuck my system sono venuti gli alieni ciao pop ma non è la psichiatra di michael credo boh ma io che cazzo ma chi si dica da più si è è lui credo boh ho capito so tre ore che su qualanzo ho filmato lo posso saltare eh la si riga così gli mena vabbè tanto è già un pazzo drogato questo ammazzolo pure cioè si cazzi non è un amico mio è un amico suo cioè si cazzi cioè un po' dalla serie cioè noi stiamo facendo tutto sto cassino per chi? questo drogato cioè questo ma questo palesemente malato cioè noi stiamo facendo tutto sto cassino per chi? ma un po' di amore per chi? per uno che lo metti sulla sedia e muore da solo ovviamente devo guidare io ci gioco le palle I have don't have destination grazie vabbè ma dobbiamo scappare oh non si ho capito cioè si non calo vaffanmo cioè cioè ma l'NPC per chi vuole passare mi mi deve mandare fuori strada ma chi chiama da mamma te frate stai attento che qua pot no è palesemente incollato buonasera ce l'abbiamo fatta ci siamo scappetti da eeeh comunque devo andare allo studio per prendere i snacks sto senza che gli studi sono cratis mo se mo se è morto per colpa tua io spacco il monitor missione vittorias quanto mi hanno dato? beh 14.000 non li reputo brutti ne un like per la missione ma ma non li ma 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 ma